7 di mattina a settimo milanese paese dell'interlanda ovest di milano due uomini entrano in auto oltre il cancello di un'azienda che recupera materiale ferroso e uno dei due o entrambi sparano al titolare franco cangini 48 anni e a suo figlio igor poco più che ventenne incensurato è stato proprio il figlio a dare l'allarme al 118 il padre morirà poco dopo all'ospedale mentre il figlio è rimasto ferito e ha subito un intervento chirurgico torna a macchiarsi di sangue questo angolo di città a sud ovest di milano una zona racchiusa tra i quartieri di san siro baggio e quarto giaro da mesi sulle pagine di cronaca per fatti di sangue legati alla criminalità organizzata la sparatoria di settimo potrebbe essere un agguato o forse una rapina secondo alcune testimonianze l'auto sarebbe entrata guidata da un uomo che diceva di volere comprare o vendere materiali ferrosi improvvisamente dal bagagliaio sarebbe uscito un complice armato i due avrebbero minacciato padre e figlio che hanno reagito e la collutazione finita colpi di pistola franco cangini ha precedenti per spaccio di stupefacenti che risalgono agli anni 80 più recenti per ricettazione spaccio di soldi falsi e aveva avuto una denuncia per trattamento non autorizzato di rifiuti tutti fatti che secondo i carabinieri non avrebbero collegamento con la faida tra famiglie malavitose pugliesi in atto da mesi per il controllo del territorio di settimo ma ormai in paese quando si sentono le sirene delle ambulanze si pensa subito a un nuovo fatto di sangue questi fatti nella nostra città si sono ripetuti e portano molto facilmente diciamo a elaborare poi delle teorie nelle quali come dire le politiche amministrative sulla sicurezza ne sono messe in discussione tra settimo milanese e baggio lo scorso aprile ci sono stati otto arresti esponenti di due bande rivali che si contendono il territorio tra le accuse gambizzazioni detenzioni di armi e il sequestro lampo di un membro di una delle famiglie tra gli arrestati vito magrini e ginio panaia ritenuti i capi delle due bande una zona dove pulsa il cuore nero di milano più a nord c'è quarto giaro da sempre controllato dalla criminalità organizzata dove il mese scorso in soli quattro giorni ci sono stati tre omicidi una delle vittime è emanuele tatone fratello di pasquale ritenuto il vero boss del quartiere entrambi figli di mamma rosa la nonna eroina considerata la capostipite dello spaccio nel capoluogo lombardo delitti per ora senza un colpevole grazie